salve e benvenuti in quest'ultima parte di harry potter la maledizione dell'erede quarto video quarto atto 15 scene da goderci una dopo l'altra in questa disanima che vi andrò proponendo ma prima prima niente questa volta niente introduzione non ho intenzione di rispondere ad altri commenti e osservazioni che mi sono state fatte nei commenti come ho fatto nelle scorse due parti per il semplice fatto che io sono stanco di dover cercare di convincere la gente non mi paga nessuno per farlo non è il mio lavoro e non è il mio interesse onestamente cioè ognuno ha il diritto di credere quello che vuole quindi se siete veramente convinti che quest'opera sia scritta bene se siete veramente convinti che determinate scelte di scrittura e di caratterizzazione dei personaggi siano fatte bene allora non vi dico niente cioè nel senso ognuno ha il diritto di avere la propria opinione buon per voi che sicuramente vi potrete godere meglio di molte più opere di quanto possa io che tendo ad essere particolarmente critico ma nel senso se non vi bastano al momento in cui sto girando questo video senza contare quest'ultima parte sono uscite due ore e dieci di video sulla maledizione delle rede in cui vi ho cercato di far capire in tutti i modi dando delle argomentazioni che ripetutavo quanto più oggettivo possibile perché determinate scelte all'interno di quest'opera fossero discutibili ma se non vi basta questo non sarà un'ennesima introduzione a risolvere non sarà l'ennesima risposta nei commenti ognuno vada per la propria strada e creda a quello che vuole credere la tonde c'era gente che difendeva l'ultima stagione di game of thrones dicendo che era incredibile che a loro era piaciuta e che gli aveva fatto piangere non capendo che se una cosa ti piace se una cosa ti suscita una reazione emotiva non necessariamente vuol dire che sia scritta bene detto questo andiamo a cominciare perché abbiamo 15 scene proprio pregne di contenuto e l'ultima volta abbiamo scoperto che a quanto pare Delfin è la figlia di Voldemort perché nella sua stanza abbiamo trovato degli indizi in questo senso ora avevo detto che ne avrei parlato in questo atto e lo farò ma non in questo momento perché in seguito riceveremo una spiegazione un pochino più dettagliata e useremo quella per incazzarci come delle bestie idrofobe ma cominciamo invece con la prima scena la prima scena sono al ministro della magia e c'è Ermione che convoca ancora una volta una delle sue riunioni d'emergenza quella che convoca sempre e di cui vengono sempre nominate tre persone che sono Harry, Ron, Megranit, Draco e basta gli altri sono sempre senza un volto, non sappiamo chi siano e anche in queste circostanze danno delle belle notizie dicono abbiamo trovato questo ragazzo Craig Bowker nel campo di 15 di Hogwarts che è stato ucciso e è stato ucciso da colei che è la figlia di Voldemort e che la Megranit dice ma come la figlia di Voldemort ma l'avete catturata, l'avete fermata e lei no, a quanto pare è nascosta nel tempo ed è toccato nel tempo perché cerca di riportare in auge Voldemort di salvarlo e creare di nuovo un dominio di Voldemort al che la Megranit giustamente dice ma come avete trovato la gira tempo e non l'avete distrutta fate cacare Ermione fai cacare al che arriva Harry e comincia a fare eh no eh perché non è colpa solo sua è anche colpa mia e di mio figlio e arriva Ginni e dice di nostro figlio arriva Draco e anche del mio figlio voglio dire bella eh come scena il fronte unito contro le minacce ma nella realtà questa scena qui farebbe cacare perché la Megranit dice sì bravi siete quattro coglioni invece che uno ma che vuol dire quattro persone che hanno messo a rischio l'intero mondo e ha causato possibili migliaia centinaia di migliaia di morti cioè non è che se siete quattro invece che uno allora è risolta la cosa invece a quanto pare nessun altro li critica dopo questa cosa qui anche io penso che sia per pietà perché dopo che loro quattro fanno questa scenetta arriva Ron per l'ennesima volta che sale sul palco e dice boh io non so niente di questa storia e i miei figli non c'entrano niente ma se loro quattro stanno sul palco allora ci sto anch'io cioè ma veramente guarda ma Ron cioè non voglio fare commenti che poi risulteranno offensivi ma veramente sembra il cuginetto scemo che si portano da dietro perché la mamma ha detto portati anche lui così gioca con i tuoi amici cioè ma che cazzo ci sta a che serve Ron in questa storia a che serve l'unica cosa spoiler anche in questi l'ultimo quarto atto l'unica cosa che è servita a cui è servito Ron in tutta l'intera opera oltre a essere costantemente ridicolarizzato e preso in giro è lui che ha visto Albus Scorpius e Delfine alla gufferia mentre era Hogsmeade che tra l'altro è una scena impossibile come abbiamo visto nello scorso video cioè proprio non è servito a nient'altro Ron se non essere lì lo zimbello comico ma va bene ormai non discuto neanche più su questo sul personaggio di Ron perché cioè è quasi meglio come hanno trattato Cedric cioè almeno Cedric dice sì è stato uno stravolgimento completo del personaggio ma ha fatto qualcosa di buono anche da Mangiomorte nell'ottica Mangiomorte chiaramente Ron non serve proprio a un cazzo proprio a niente comunque dicono che stanno provando a risolvere che hanno contattato Giganti e Troll e che gli Auror volano in giro che tutto questo a cosa cazzo serve che discorso è c'è nel senso è nascosto nel tempo a che serve fare tutta questa cosa qui è come dire c'è un assassino di libertà ma io tranquilli ci stiamo lavorando perché io faccio il sudoku tutte le mattine ma a che cazzo serve ma che boh vabbè per far vedere che fanno qualcosa per non far vedere che stanno lì a girarsi i pollici va bene così seconda scena Albus e Scorpius sono alla stazione ferroviaria di Aviemore a quanto pare sono scappati da Hogwarts dopo quello che è successo e sono andati lì ok benissimo la stazione ferroviaria di Aviemore è a 70 km da Hogwarts quindi io vorrei sapere come cazzo ci sono arrivati a piedi visto che non hanno la bacchetta visto che sicuramente non possono smaterializzarsi non hanno delle scope non hanno dei terstall non hanno niente 70 km va bene ok e sono lì che si chiedono cosa devono fare dove sono non sanno in che anno sono e vogliono attaccare bottone con il capo stazione per fargli delle domande ma non sanno come porsi dicono ovviamente capo stazione babbano non possiamo fargli domande nel mondo della magia è tutto se non che mentre sono loro che si sbrodono addosso arriva il capo stazione che parla a loro ora nella versione originale dell'opera il capo stazione parla scozzese perché sono ovviamente in Scozia Hogwarts è in Scozia benissimo parla scozzese e si capisce veramente poco perché ovviamente lo scozzese è molto marcato in italiano l'hanno fatto parlare in un modo che sembra veramente stia avendo un ictus mentre parla con Albus e Scorpius perché arriva e dice l'Edimburgo il ritardo è sapete edimburgo molto tardi assai che ripeto poverino ha dei problemi ma poi se lo leggi con accento diverso ha così certo tanto senso perché se lo leggi con l'Edimburgo il ritardo è sapete edimburgo molto tardi assai cioè letteralmente hanno fatto lo scozzese come il sardo è Willy all over again è Willy the Simpsons boh comunque vedono l'orario da questo capo stazione e scoprono tramite questo orario che è il 30 ottobre del 1981 quindi Delphine quando è tornata nel tempo l'ultima volta prima di distruggere la giratempo è tornata al giorno prima in cui i conigli poter venivano uccisi da Voldemort perché vuole bloccare la profezia originale sapete quella ecco giungere colui con il solo potere per sconfiggere lo scuro signore bla 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 perché vuole fare questo perché quando Scorpius si è attaccato ai Pippone dicendo che il fatto che lei si stia adoperando per far avverare la profezia non ha senso logico se deve agire per farla avverare vuol dire che puoi anche agire per farla infrangere roba varia lei ha capito che lo scopo non è quello di far avverare la profezia che le aveva scoperto in seguito ma bloccare la profezia originale così che Voldemort non provi mai a uccidere Harry e facendo così non praticamente non crolli mai il suo dominio e tutto il resto scena 3 Albus e Scorpius sono a Godric Solo non commentiamo come hanno fatto questo viaggio visto che è un viaggio anche abbastanza significativo e arrivano comunque in tempo e quando arrivano lì vedono varie cose Scorpius comincia a dare di matto perché vede Batil de Bat dice wow la storica della magia il mio lato nel secchione esplode no e roba del genere e poi vedono James e Lily col piccolo Harry che nel mio libro c'è scritto con un bebè nella carrozzina ma Harry aveva un anno e tre mesi non era un bebè nella carrozzina in inglese parlano di passeggino e già mi va bene di più guarda veramente e comunque come li vedono capiscono che Delfina ancora non le ha uccisi ancora non ha fatto quello che doveva fare e quindi si chiedono come fermarla e qui cominciano a partire con teorie che però vedremo solamente nella scena 5 perché nella scena 4 c'è Harry nel suo ufficio è lì che guarda i documenti non so cosa servono ma cerca di capire bene cosa sta succedendo e arriva Albus silente arriva nel suo quadro che gli dice tipo come va come non va tutto bene così ed Harry ha sfavato con silente dicendo consiglio facceva cacare quello che lei mi ha detto non è servito a niente lei non c'è mai stato per me quando avevo bisogno di lei ho affrontato Voldemort tre volte lei non c'era mai e ora anche mio figlio è solo perché non ci sono ho fallito anch'io bla 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 e c'è il silente che si mette a piangere prova a abbracciarlo dallo quadro non ci riesce e fa un discorso che secondo me va bene cioè nel senso abbastanza in linea col personaggio di silente perché dice io non volevo affezionarmi a te che questo è un discorso che è stato utilizzato anche nei libri originali no? e qui viene un po' in approfondito dice ah non voleva affezionarsi a me quindi anche allora stava difendendo se stesso e non me e silente gli dice no stavo difendendo te perché tutte le persone che ho amato hanno fatto una brutta fine non sono mai stato in grado di amare una persona senza che questa soffrisse e ovviamente parla sai comunque della sorella di ariana parla di grind parla di un sacco di cose no? e questa cosa è in linea con il personaggio come ad esempio silente che non ha mai voluto il potere perché ha sempre reputato che non fosse una persona adatta a gestire il potere perché quando aveva il potere non l'aveva usato bene per questo non è mai diventato ministro della magia e tutto ok va bene comunque fanno un po' tra luce e vino si tranquillizzano tutte e due si dicono entrambi che si erano voluti bene e arriva Draco Draco arriva e attacca a bottoni dicendo sai nell'altra realtà parallela era mio questo ufficio e magari lo sarà di nuovo no? scherzando e poi dice no ma in realtà io per il ministero non ho mai voluto lavorare quello era il sogno di Lucius di mio padre ma mi ha sempre fatto cacare e ari chiede allora quale lavoro volevi fare e Draco dice io volevo giocare a Quidditch ma non era abbastanza bravo ma in generale volevo essere felice e quindi entra tutta nella storia della storia della famiglia di Draco della storia con Astoria e Draco dice tipo sai Astoria stava male aveva una maledizione del sangue quando abbiamo avuto Scorpius è stata fortemente debilitata non è più riuscita a uscire di casa non è morta dopo pochi anni ma voleva che rimanesse qualcuno con me in tutto questo Draco comincia a parlare della giratempo dicendo secondo te Not or Not che è maggior morte a cui hanno preso la giratempo originale ne aveva solo una quella era un prototipo era fatta di metallo strano aveva il limite dei 5 minuti ma non la poteva vendere alle famiglie oscure no? e si viene a scoprire che a quanto pare Not aveva quella la giratempo perché era stata commissionata da Lucius che voleva una giratempo che potesse tornare indietro di anni no? non la userà mai non si capisce perché ma la voleva perché collezionava artefatti magici oscuri che questo è anche vero e tira fuori un altro giratempo Draco una giratempo d'oro dice questa non ha il limite di 5 minuti che io dico non è che non abbia senso in termini di scrittura ma è talmente tanto pigro come sistema cioè introduce un nuovo strumento e per risolverlo introduce lo strumento più uno letteralmente questo è un mezzo Deus Ex che però va bene guarda ce lo faccio mandare bene e dice usiamo la giratempo e andiamo a salvare i nostri figli ma è ridice sì ma dove andiamo soprattutto quando andiamo non sappiamo in che periodo storico siano loro non possiamo viaggiare nel tempo a caso al ricercarli no? che è vero per carità in tutto questo comunque ribadisco che la storia fra Scorpius Draco e la storia rimane la più bellina dell'intera opera che ci vuole poco per carità ma rimane quella un pochino più decente nel quinto nella quinta scena comincio nei casini perché io non volevo entrare ancora in discussione sui viaggi nel tempo però io tutto il quinto la quinta scena ruota sul fatto che Albus e Scorpius cercano di capire come avvisare Harry vogliono avvisare Harry del piano di Delphine e quindi i soli che dicono no potrei apparire davanti a Harry in fasce urlare aiuto 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 così da creare un ricordo nel suo subconscio un trauma che poi se lo ricorda dopo o potrei fare questo potrei fare quell'altro potremmo avvertire Silente intanto c'è Scorpius che continua a dirgli no questo non lo puoi fare non puoi avvisare Lily perché se Lily sa che Harry si salva non potrà pregare Voldemort a offrire la sua vita in modo onesto e quindi non si te reggerà il sacrificio non puoi avvisare Silente perché potresti fare un casino e modificare il tempo e alla fine sai cosa decidono di fare perché vedono Lily che copre Harry con la copertina e io lo sapevo sapevo che avevano introdotto la copertina solo per usarla in qualche modo che è quello cioè hanno direttamente creato un oggetto che non c'era per metterlo all'interno di questa di questa scena qui e per farlo funzionare ma ora vedrete quanto arraschia questa scena nonostante l'abbiano creata ad hoc insomma vedono che Lily mette la copertina su Harry e Albus dice ah quella è la coperta che c'ha mio padre sai cosa potremmo fare potremmo modificare quella coperta in modo che mio padre veda il messaggio e dice come il giorno in cui mio padre ha provato a regalarmela io l'ho attirata verso la stanza e ha colpito la pozione di filtro d'amore che gli aveva portato Ron perché Ron ovviamente così e si è macchiato dice qual è l'ingrediente principale di filtro d'amore la polvere di stelle e qual è una sostanza che reagisce con la polvere di stelle il piscio di camuflone la tintura di camuflone bene se noi facciamo una scritta con la tintura di camuflone sulla coperta quando questa viene colpita dal filtro poi la scritta appare diventa visibile che è un piano incredibile copiato pari pari da il secondo film di Ritorno al Futuro in cui Doc avvisa Marti lasciandogli una lettera in modo che arrivi anni dopo però è un piano incredibile se non che non ha senso non ha senso questa cosa qui ma perché non ha senso? allora innanzitutto non ha senso pensare di dover avvisare Harry perché loro Albus e Scorpius non sanno che Harry ha un'altra gira tempo a che cazzo serve avvisarlo? a che serve? ma poi non ha senso nella misura in cui ora è un po' casino da spiegare ma questa è la linea temporale no? qui si trovano Albus e Scorpius nel 1981 e qui si trova Harry nel 2015 non mi ricordo qual è l'anno in cui sono no? allora cosa voglio fare? voglio modificare la coperta qui in modo che Harry la legga qua ma tutta questa linea temporale il momento in cui c'è Harry è basato su tutta questa linea temporale quindi il messaggio a Harry non gli arriva prima che Delfin intervenga non so se mi spiego cioè se loro fanno tutta questa cosa qui e arriva Delfin e ammazza Harry non c'è un Harry nel futuro in cui potrà leggere il messaggio della coperta non ha senso questa cosa qui avrebbe senso solo se loro fossero bloccati nel passato e non ci fosse Delfin dice ok gli lasciamo un messaggio così che fra 40 anni lo legge e torna a salvarci ora che siamo giovani che tra l'altro nel senso loro comunque dovrebbero passare quei 40 anni nel passato senza modificare la linea temporale o altro però comunque in quel caso avrebbe senso ma con Delfin che vuole fare casino non puoi fare un piano aspettando 40 anni che tuo padre lo legga non ha senso l'unico caso in cui avrebbe senso questa cosa qui è col principio di autoconsistenza di Novikov perché dici la loro presenza nel passato contiene già il viaggio che poi farà per tornare a salvarli però non puoi mettermi il principio di autoconsistenza anche se sono meccalacchia un pochino qui dopo che mi hai fatto tutti gli universi paralleli finora c'è un cazzo minimo di coerenza ma questa non è un'opera teatrale questa è una canzone di caparezza mi contraddico facilmente ma lo faccio così spesso che questo fa di me una sceneggiatura coerente ma che cazzo ma che piano è ma ovviamente funziona sappiatelo piccolo spoiler funziona perché la coerenza narrativa all'interno dell'opera non serve un cazzo non serve assolutamente a un cazzo tra l'altro questo piano qui proprio per raggiungere danno alla beffa si basa sul fatto che Albus dice che suo padre tutte tutte le vigili di ogni santi quindi la notte di Halloween prende questa coperta e se la struscia sulla guancina perché gli vuole stare insieme e questa cosa qui non è scritta mai da nessuna parte perché perché quando Harry ha provato a regalare la coperta ad Albus non gli ha detto questa cosa qui gli ha detto prenditi questa coperta te la porti a Hogwarts e magari il giorno di Halloween ti vengo a trovare e potremmo guardarla insieme ma non dice mai che lui tutti gli Halloween guarda la coperta questa cosa non c'è non c'è neanche in originale perché in originale dice I'd like to look at it with you cioè dice mi piacerebbe guardarla con te non dice I like to look at it non dice mi piace guardarla cioè ma neanche in termini di scrittura cazzo ma è la loro lingua madre non riescono a fare una O col culo ma non mi cazzo neanche più perché tanto l'intera opera è così di loro che plasmano le regole logiche come gli pare per far tornare una storia ma raschiando duramente sapete qual è la cosa ogni volta che qualcuno mi fa domande su Harry Potter io rispondo e arriva qualcuno nei commenti dicendo tipo non so mi chiedono perché Harry sopravvive perché succede questa cosa perché ottiene questo oggetto perché Hermione finisce in grifondoro e non in corvo nero mille altre cose e ogni volta cerco di dare delle argomentazioni e poi arriva sempre quello nei commenti dicendo succede questa cosa qui perché l'ha decisa lo scrittore che è una risposta cretina perché ogni cosa che succede nel libro è perché l'ha decisa lo scrittore ogni cosa che succede nel libro serve per fini narrativi perché serve lo scrittore per portare avanti la storia in un certo modo quindi chiaramente tutto quello che succede succede perché l'ha deciso lo scrittore ma un'opera scritta bene ha degli eventi e delle cose che succedono dentro che sono coerenti con la storia stessa sono giustificate all'interno della storia stessa non perché l'ha deciso l'autore capito? qui proprio questa cosa non esiste letteralmente ogni cosa che succede all'interno di questa storia è perché l'hanno deciso dei sceneggiatori e non gliene frega un cazzo se quell'evento quell'evoluzione caratteriale quel modo di dire quella parola di tale personaggio ha senso con il personaggio o con la storia che hanno scritto fino a quel momento ma a questo punto non è neanche più un problema di coerenza con l'opera originale che già quello sarebbe grave perché comunque è un'opera canonica ricordiamolo ma è un problema di coerenza con l'opera in sé non è coerente con se stessa boh comunque loro dicono di fare questa cosa e a quanto pare possono entrare tranquillamente in casa della gente in casa così perché non chiudevano le porte all'epoca Scorpius l'ha letto sul libro di Batilda Bat non chiudevano le porte a chiave boh vabbè stessa scena c'è Harry in camera di Albus seduto sul letto arriva Ginni e c'è Harry che dice lo sai Halloween per me è sempre stato un periodo di merda ma questo è sicuramente il secondo Halloween peggiore della mia vita che non è vero non è vero questa cosa qui perché Harry non ha mai associato Halloween alla morte dei genitori non ha mai avuto quel tipo di trauma lì nei libri lo vediamo costantemente passare dei bei Halloween e si mangia la torta di zucca nella sala grande con gli altri compagni gioca a spara schiocco addirittura va alla festa di comple morte di Nick quasi senza testa allora dopo gli è venuta finché era ragazzo non associava da adulto si mette a piangere ad Halloween che gli stava usciandosi la copertina sulla guancia ma perché mi devi dire una cosa che non è vera non è vera poi comincia a fare discorsi del tipo ah si vedi tutta questa gente è morta per colpa mia al posto mio io dovrei morire lo pensa anche Silente no no non è vero neanche questo Silente ha vissuto gli ultimi vent'anni della sua vita cercando di mantenerti in salvo e alla fine ci è anche riuscito non ha mai pensato che devi morire anche quando dice a Piton che Harry si deve sacrificare lo fa perché pensa che in quel modo si possa salvare non che deve morire ma di che cazzo stiamo parlando e ovviamente alla fine succede prende la copertina vede che c'è un buco e vede che appare la scritta e c'è una scena anche wow a teatro deve essere bellissima con Harry e Albus che si alterna non con Albus che sta scrivendo questo messaggio Harry che fa fatica a leggere anche Ginny che lo legge alla fine vedo nel messaggio c'è scritto papà aiuto Godric Solo 31 a 10 81 e loro dicono chiama tutti e andiamo a Godric Solo e usiamo la gira tempo quindi il viaggio nel tempo funziona così ragazzi questo io credo che sia in assoluto l'opera in cui il viaggio nel tempo è gestita peggio in assoluto che io abbia mai visto al confronto a spasso nel tempo di Bolder e De Sica è un capolavoro di scrittura cioè ma non lo dico per far simpatico lo dico perché è vero i viaggi nel tempo cambiano modo di esistere da scena a scena gli impatti del passato sul futuro sono solamente come comodo non hanno mai scritto un vero what if loro cioè io quando scrivevo il what if ci facevo dei video di 45 minuti per spiegare come le differenze secondo me andavano ad agire sulla storia invece loro a quanto pare è comodo così cambia solo questa cosa qui la famiglia di Harry rimane tutto uguale la famiglia di Draco rimane tutto uguale perché sì perché al senso questa cosa qui basta inutile incazzarsi ulteriormente su questa cosa qui andiamo avanti scena 7 gli allegri Cavalleros arrivano a Godric's Hall nel presente parlano dei vecchi tempi Hermione parla dei vecchi tempi e Ron fa una battuta sulle code di cavallo perché vuole fare una freccetina al fatto che Draco abbia i capelli lunghi e c'è Draco che tipo dice ma che vuoi e lui fa tu hai mancato di rispetto a me e alla mia signora e Draco fa Hermione non ha bisogno di un avvocato e lui fa se lo fai di nuovo e lui fa cosa fai e Hermione ti abbraccia perché ora siamo tutti nella stessa squadra e Ron abbassa la testa e dice sì hai proprio dei bei capelli Draco costantemente 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 Ron guarda Ron è la cosa peggiore di quest'opera l'ho detto cioè guarda veramente preferirei mille bambini di Voldemort piuttosto a questo Ron cioè ma perché costantemente costantemente boh comunque arrivano lì usano la giratempo e tornano nel passato e giustamente scena 9 si ritrovano esattamente di fronte ad Albus e Scorpius che dicono ah però ha funzionato questo cosa certo sono sorpresi anche loro dicono ma come vabbè ha funzionato c'è Scorpius che abbraccia Draco e c'è che vede Albus dopo che nella scena prima piangeva sul letto dicendo se hai dovuto morire io invece che mettere in pericolo mio figlio così lo guarda e gli dice Albus Severus Potter lieto di vederti ma che ma perché ma che cazzo ma come le scrivono le cose ma io mi incasserei anche di più ma sono veramente stanco a questo punto sono veramente stanco come se mi picchiassero da settimane cioè ad un certo punto il corpo cede il spirito è forte ma la carne è debole ragazzi veramente boh e infatti Albus abbraccia Ginni no e loro dicono ah beh che dobbiamo fare dobbiamo andiamo nella chiesa di San Girolamo e ci mettiamo lì a osservare perché il Delfine ancora non è arrivata non sappiamo quando arriva non sappiamo a che ore Voldemort è andato a torucidare Potter ci mettiamo lì dicendo il tempo è essenziale lol abbiamo la giratempo il tempo è essenziale boh vabbè e si mettono lì scena 9 sono nella chiesa di San Girolamo e Harry sta guardando fuori dalla finestra Ginni e c'ha praticamente Albus vicino che dorme su una panca tipo Barbone e cominciano a parlare di Albus dicendo Harry dice ma io farei di tutto per lui e lei faresti di tutto per tutti hai provato a salvare il mondo un sacco di volte ci sei riuscito anche due o tre volte hai fatto sai qual è uno dei miei ricordi migliori che quando nel secondo libro io sono uscita dell'infermeria alla fine del secondo libro tutti mi ignoravano e mi tenevano in disparte per quello che avevo fatto che non è vero non è vero nessuno sa che Ginni prendeva ordini da Voldemort e aveva aperto la camera dei segreti lo sanno tre persone in croce lo sanno Silente lo sanno Harry Ron Hermione e la famiglia di Ginni la McGranit ma figurati se tutti gli altri lo sanno ma ti immagini che vita avrebbe vissuto Ginni a scuola se avessero saputo che era lei a sgozzare galli a scrivere col sangue sui muri e a scatenare i basilisco contro i nati babbani ma di cosa stiamo parlando non lo sapeva nessuno no quanto pare lei veniva isolata a tutti e Harry l'ha tolta dal suo isolamento perché è andata a lei e le ha chiesto se voleva giocare a sparaschiocco wow l'amore perché è proprio questo è questo su cui si basa la storia d'amore di Harry e Ginni che bello guarda che bel momento non ce ne sono altri momenti veri nella storia originale che potremmo raccontare no infiamo questo che non ha senso e comunque lei dice te ami tutti e fai di tutto per tutti ma Albus si deve sentire speciale perché è tuo figlio devi far sentire tuo figlio speciale no e dato che parlano di amore di padre di figli così Ginni capisce che il piano di delfino non è quello di uccidere i coniugi Potter ed Harry prima di Voldemort così che non gli rimbalzi l'incantesimo incontro no è quello di fermare Voldemort perché così può stare col padre lo incontra ci parla e lo vuole fermare dicendo no c'è la profezia non lo fare e quindi devono scogitare un nuovo piano scena 10 e il piano qual è? la pozione di polisucco ovviamente cioè ogni volta devono provare a risolvere qualcosa la pozione di polisucco ma dato e non possono farlo perché dicono non possiamo farlo perché non abbiamo un ingrediente di Voldemort per poterlo fare non che non lo possono fare perché per creare la pozione di polisucco ci vogliono cazzo di settimane quindi di cosa stiamo parlando no perché non hanno i capelli di Voldemort giustamente no e allora vogliono trasfigurare uno di loro in Voldemort così che questa persona mascherata da Voldemort arrivi nel villaggio e Delfino lo segua e lo apporti così all'interno della chiesa dove lo aspettano tutti e chi è che si propone per diventare Voldemort in questo piano? Ron ovviamente che arriva e fa dovrei farlo io perché sono il più rilassato che non ha senso non ha senso ma ovviamente deve serve per farlo scemo poi arriva Draco e dice dovrei farlo io perché conosco la magia oscura e conoscere la magia oscura sicuramente aiuterà a calarmi nei panni cioè a fingere di essere Voldemort poi arriva Hermione e dice lo dovrei fare io perché sono ministro della magia ed è una mia responsabilità ancora ancora Hermione ma Hermione ma perché è così? ma perché è egocentrica in questo modo? ma a me non sembra che fosse così nell'opera originale certo magari poteva essere orgogliosa dei suoi successi accademici e deve sapere una risposta ma non in questo modo stupido Hermione è la stessa che nel primissimo libro il primissimo libro quando ha 12 anni dice vai te erri avanti perché te sei più in gamba di me io so solo i libri così si butta un pochino giù perché in realtà dice il coraggio è altre cose dice te hai delle capacità che io non ho cioè non è mai stata una che si considerava meglio degli altri o che doveva essere al centro dell'attenzione anche quando non gli competeva invece no come nell'altra nella temporale in cui ha causato tra l'altro il bacio di destinatore a lei Ron e Piton e ha fatto un casino anche in questa dovrei farla io perché sono ministro della magia ma perché ma che senso ha questa cosa qui e giustamente alla fine arriva Henry dice lo dovrò fare io no che ho vissuto nel cervello di Voldemort per sette anni e che so parlare serpentese anche se non puoi parlare serpentese e diciamolo una volta per tutte non può parlare serpentese poi per carità sulla cosa del serpentese la Rowling ha fatto dei casini perché il serpentese è stato introdotto come un potere la capacità non solo di parlare la lingua dei serpenti ma di persuaderle di fare così è un potere è il potere che contraddistingue Salazar ma a quanto pare lo possono imparare tutti perché poi a parte Ron che ha fatto diversi ha aperto la camera dei segreti ma qui lo sai non è che parla serpentese Ron letteralmente imita Henry e la camera dei segreti è talmente idiota che sente sputacchiare uno vicino al lavandino e si apre la camera dei segreti immagina che casino avrebbe potuto fare una cosa del genere però dice anche Silente conosceva il serpentese non lo poteva parlare ma lo capiva boh ok comunque del dolore di Henry del serpentese ne parliamo ultima scena perché lì ne parlerà quindi finora fermiamoci qui comunque lo trasfigurano in Voldemort anche se questa cosa è pericolosa lui si trasforma lì e parte in mezzo al villaggio scena 11 i caballeros sono all'interno della chiesa di San Girolamo e vedono Henry muoversi all'interno di Godric Solo quando vedono Delphine che si avvicina ad Henry Hermione dice mettetevi in posizione perché Henry la porterà qui al centro della luce e attaccheremo in quel momento e c'è Draco che dice sto prendendo ordini da Hermione Granger e potrebbe anche piacermi dato una versione cioè io dice me la sto godendo quindi ancora peggio ma perché ma che frase ecco l'avevo detto l'avevo detto e arrivava la Dramione l'avevo detto ma che fa a parte che te ordini da Hermione Granger li prendi sempre perché lei è ministro della magia quindi che cazzo dici uno ok ma secondo logo ma che senso ha questa frase qui è letteralmente un innuendo sessuale ragazzi davanti a Ron tra l'altro non potevi fargli dire una frase del tipo mai avrei pensato di prendere ordini da Hermione Granger chissà cosa ne penserebbe Zia Bellatrix qualcosa del genere no che avrebbe senso Zia Bellatrix ha torturato Hermione Hermione è una sangue marcio avrebbe avuto senso no lo puoi fare in chiave ironica in quel modo lo puoi fare scherzare su questa cosa ma questo è letteralmente un innuendo ma poi cosa c'ha il kink del sub Draco boh andiamo avanti tanto siamo all'undicesima scena finiamola togliamoci non è un cerotto che non smette mai di togliersi veramente un cerotto che non smette mai di togliersi comunque arriva Harry che entra dentro la chiesa con delfine che va dietro e c'è Harry che dice qualcosa del tipo chi è che inciampa nell'oscurità dichiara chi sei o preparati a essere avadato e arriva delfine che dice sono io sono lo vordo ma sono io sono io che ti seguo da coglione vai via e lei no ma sono tua figlia e lui lo saprei se fossi mia figlia ed ecco che arriva la spiegazione e lei dice dice che è la figlia di Voldemort e Bellatrix io non so da dove iniziare veramente a questo punto allora lei dice che è la figlia di Voldemort e Bellatrix che è nata prima della battaglia di Hogwarts e che Rodolphus Lestrange quando è tornato da Azkaban le ha detto chi era ed ecco che è quello che le ha detto la profezia che poi le ha seguito ora questa è la più grande castroneria da Dumbo l'elefantino volante di cosa stiamo parlando? allora so che esiste una teoria diffusa online e condivisa da alcune persone secondo la quale tutto questo non sia vero ovvero che Rodolphus le ha detto questa cosa per manipolarla per far modificare il passato così che agisse in quel modo sfruttando il fatto che lei praticamente era anorfana ed è cresciuta da sola e praticamente sfruttando questa cosa a suo beneficio per questo le ha detto anche la profezia che avrebbe senso il problema qual è? il problema è che innanzitutto all'interno dell'opera non c'è alcun suggerimento che poteva far pensare a questa cosa mai e se te vuoi fare una cosa del genere soprattutto quando è una cosa così grossa e che potrebbe dare adito a discussione dovresti metterci un riferimento da qualche parte in secondo luogo se voi cercate online anche nel fandom di Harry Potter viene descritta come la figlia di Voldemort e Bellatrix con addirittura che Voldemort viene incluso negli interessi amorosi di Bellatrix e viceversa Voldemort con gli interessi amorosi amorosi Voldemort ed ecco qua se davvero è figlia di Voldemort porco cazzo di schifo va bene ma perché perché non ha senso che abbia una figlia allora innanzitutto Bellatrix è sposata con Rodolphus quindi Rodolphus re dei cac proprio ma che cazzo fa cioè non solo sua moglie ripianta un palco di corna rimane incinta e poi lui cresce la figlia o dopo che torna da Azkaban boh e poi lui che torna da Azkaban che cazzo vuol dire perché l'hanno lasciato libero da Azkaban uno dei maggiori morti principali di Voldemort dopo la battaglia di Hogwarts l'hanno liberato ma che cazzo vuol dire ma che cazzo scrivono quali sono le circostanze che potrebbero far verificare la procreazione di Voldemort allora Voldemort vuole un erede non ha completamente senso per un personaggio che è convinto di essere immortale Voldemort fino a un'ora prima di morire è convinto di essere immortale è convinto che i suor crux siano al sicuro ma che cazzo di senso ha creare un erede ma perché ma poi Voldemort Voldemort si è innamorato di Bellatrix Voldemort l'uomo che la sua sconfitta è che non conosce l'amore Bellatrix ha usato un filtro d'amore su Voldemort ed è rimasta in vita dopo la storia di Voldemort dopo la storia dei suoi genitori pensate che Voldemort non l'avrebbe amassacrata se avesse fatto una cosa del genere cioè l'unica circostanza che rimane è che Voldemort un giorno debotto senza senso abbia deciso di scopare Bellatrix che non ha senso neanche quello Voldemort schifa Bellatrix Voldemort schifa tutti è convinto di essere un essere superiore non lo vediamo mai neanche mangiare o bere l'unica cosa che lo vediamo bere è il sangue dell'unicorno quando è nella nuca di Raptor e il veleno di Nagini quando deve rimanere nella sua forma corporea ma non lo vediamo mai associato a bisogni fisiologici no? ma poi con Bellatrix costantemente nella storia la schifa la lontana con lei che lo venera e lui che dice ma le ha tira il cazzo ma che vuoi ma fai schifo così e dice quali sono le prove a favore e c'è quella teoria sul fatto che sia tutto inventato però Delfin parla effettivamente Serpentese ancora una volta si rientra in questa cazzo di discussione ma il Serpentese cos'è? una cosa che possono imparare se la puoi imparare qualcuno te la dovrà insegnare chi cazzo gliel'ha insegnato Serpentese a Delfin boh e la lampada d'olio con scritto benvenuto Aguerei in Serpentese che hanno trovato nella stanza di Delfin chi l'ha registrata? cioè si è messo Voldemort a registrare la lampadina d'olio che la figlia ancora non nata ma che cazzo stiamo dicendo? ma che è sta roba qua? ma che è sta roba qua? e poi Delfin vola vola senza scopo infatti è così che no dimostra a Harry Voldemort dice guarda sono tua figlia e vola senza scopo e lui dice ma io non ho mai insegnato a nessuno a farlo ne fa ho voluto seguire i tuoi passi no no come li ha seguiti i passi? come ha imparato a volare senza scopa? nella storia lo conoscono solamente Voldemort e Piton perché Piton gli ha insegnato Voldemort entrambi sono morti quando a quanto pare Delfin aveva due mesi perché sapete quando è nata Delfin? ci sono diverse teorie e poi accreditate che sia nata all'inizio marzo considerato che a fine marzo c'è la scena in cui Harry, Ron e Hermione finiscono a casa di Malfoy e Hermione venne torturata da Bellatex quindi Bellatex a quanto pare lì ha appena partorito perché poi a maggio c'è la battaglia finale di Hogwarts poi ci sono delle teorie secondo le quale sia nata alla fine del sesto libro motivo per il quale Bellatex non ha partecipato nella missione per l'assassinio di Silente anche se secondo me non è così cioè non participa perché Voldemort non vuole in realtà che Draco succeda in questa cosa che abbia successo e tutta la stessa cosa è nata per punire Draco per punire la famiglia Malfoy per il fallimento di Lucius nel quinto libro ricordiamolo quindi non manda la sua migliore luogotenente a combattere in una missione che lui considera fallimentare no? però vabbè veramente cioè comunque se l'avessi letto nel primo atto della prima scena probabilmente avrei avuto un ictus veramente ma a questo punto cioè a questo punto voglio solo che finisca questa storia ovviamente sono solo stanco sono solo stanco comunque Henry fa finta di essere convinto le dice ah è incredibile nessun altro voleva essere ha cercato di essere me lei voleva solamente che tu fossi fiero così e la trasfigurazione di Henry comincia a sfarsi le sue mani la sua faccia e tutto lei se ne accorge e si affarrò lontano in duello e si lanciano entrambi un incantesimo tra l'altro nel sceneggiatore c'è scritto che questi due incantesimi si colpiscono l'uno con l'altro con un'esplosione bellissima ed è evidente l'hanno fatto per la messa in scena perché non ha senso l'incantesimo che si lanciano perché sapete qual è l'incantesimo che si lanciano loro due entrambi contemporaneamente incendio ma perché ma non è un incantesimo da duello incendio perché non lanciarsi uno stopeficium una vada da kedavra perché lei che non la lancia una vada da kedavra è lui che lancia un expelliarmus così a senso sempre nella sua caratterizzazione no incendio tutte e due ma lei ovviamente senza bacchetta fa così con la mano e chiude la porta fa collo portus così gli altri rimangono chiusi fuori e poi comincia a massacrare Harry lo fa volare da una parte all'altra Harry proprio fantoccino nelle mani di Delfin completamente incapaci di fare niente lo disarma lo fa volare da una parte lo fa schianto dall'altra cioè Harry proprio meno male che era portato per la difesa contro l'arte oscura non riesce a fare una occo al culo contro Delfin le prende e basta continuamente fino a che da una grata sotto il pavimento Kitty ci spunta Pacciani sempre lui che ha deciso di risolvere il problema con le sue manine no ci spunta Albus che è stato mandato dalla mamma a questa grata per aprire le porte da dentro ma quando Delfin lo vede prova a fare la vada che dava ad Albus Harry lo tira via e ricominciano a lottare anche se Harry non ha la bacchetta più perché è stato disarmato prima quindi anche lui ma gira senza bacchette Albus riesce ad aprire le porte arrivano tutti e riescono a sopraffare Delfin la legano per terra e lei dice no mi prego volevo solamente incontrare mio padre Harry è un po' toccato da questa cosa qui però è anche incazzata una bestia diceva tante persone hanno provato a farmi male nella vita ma tu hai provato a ferire mio figlio che sembra cosa sembra paperon dei paperoni dice ladri più astuti e scaltri di te mi hanno reso ingegnoso ma tu mi hai fatto arrabbiare non serve a niente questa frase tra l'altro perché almeno paperon dei paperoni poi corcava tutti di botte faceva una cosa allucinante faceva uno sterminio africano qui letteralmente non serve a niente perché poi Harry dice no ma ti porteremo nel futuro ti manderemo ad Arz ma non cancellatemi la memoria lui no e Albus dice falla fuori lui no dobbiamo fare le cose noi non siamo assassini quindi perché mi metti la scena in cui sembra che Harry sta perdendo il controllo se poi nessuno lo calma si calma da solo nel giro di mezzo secondo boh c'è proprio base base di scrittura è veramente base base e tutto questo arriva Voldemort non nella chiesa anche se dalla scrittura io ero convinto fosse arrivato nella chiesa ma arriva nel villaggio diventa freddo la gente a cappone la pelle e si sente Harry Potter letteralmente questo cioè Voldemort che arriva ma non dice altro ma che cazzo dice boh così vabbè arriva e nel capitolo 12 loro vogliono andare via ma Harry vuole vedere dice sto permettendo che succeda perché ovviamente non può interferire non può modificare quello che è successo perché altrimenti succede un casino e quindi rimane a osservare con tra l'altro superpoteri tipo Superbisa e Superdito perché da lontano sentono tutto quello che si dicono Voldemort James e Lily sentono James che muore Lily che supplica così e quando Voldemort lancia l'ultimo Avada Kedavra Harry tipo tramortisce dal dolore perché c'è questo dolore alla fronte che quello ha senso dice vabbè sai ha rivisto il più grande trauma della sua vita dal vivo praticamente ci sta che uno abbia una crisi di nervi o qualcosa del genere però vabbè e questa è anche una scena abbastanza carina perché ti fa ci rimani male a rivedere tutta quella scena a sapere un po' di empatia nei confronti di Harry che è costretto a vedere tutto quello a subire di nuovo tutto quello a sapere di poter salvare i genitori e non farlo un sacco di cose però insomma ha senso ed è carena scena 13 c'è una scena che a quanto pare loro l'hanno messa perché convinti che avrebbe reso felici i fan e me penso ci avevo pensato questo farà felice lo scrivacchino perché la scena 13 è letteralmente Hagrid che va a prendere Harry nelle macerie di casa Potter e c'è lui che vede i corpi di James e Lily e dice ah mi dispiace non mi dimenticherò di voi non posso rimanere qui con voi perché stanno arrivando i babbani con le loro sirene blu e un buonanulla come me qui farebbe solo danni e poi prende Harry e gli dice tu non lo sai ma è appena scampata grande sarò tuo amico perché dopo una cosa del genere sicuramente hai bisogno di amici e poi sparisce no 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 non sparisce Hagrid perché arriva Sirius dove è Sirius dove è Sirius che arriva con la moto che dice dammi Harry sono suo padrino e Hagrid dice no Silente mi ha dato degli ordini allora usate la moto a me non serve più e poi va ad ammazzare Peter Minus dove è Sirius ma cazzo ma che ci vuole ma mettimici un Sirius giovane un Sirius distrutto bello che arriva con una moto di carta pesta sulla cazzo di palco me la metti quella scena e siamo tutti felici no ce non riescono veramente ogni passo che fanno pestano una merda una cosa allucinante scena 14 Albus e Scorpius sono tornati alla normalità della loro vita scolastica Scorpius ha chiesto a Rose di uscire lei l'ha schifato gli ha detto no e dice ah ma vedi questo è il primo passo perché prima c'era solo odio nei suoi occhi ora c'è un po' di pietà e sulla pietà posso costruire raggiungono poi Rose Rose chiama Scorpius le scorpione e Scorpius chiede ad Albus di andare a vedere la partita di Quidditch fa sempre vedere il tasso rosso ma Albus dice non posso perché mio padre sta arrivando e vuole darmi una cosa e farmi vedere una cosa capitolo 15 finale Harry e Albus stanno camminando su una collina fanno un po' di chiacchiere di circostanza sugli esami e Harry chiede scusa ad Albus dice farà di meglio Albus dice uguale Albus dice vorrei che fossi come te e James e Harry dice ma James non mi somiglia per niente non mi somiglia per niente perché la sua vita è perfetta la mia vita faccia schifo come la tua capito e niente praticamente dice ah io sai ho sconfitto Voldemort fisicamente anni fa ma mentalmente solo ora che è un po' quello che sembra vorrei indicare perché parla serpentese e perché c'è dolore della cicatrice ripeto sul dolore della cicatrice potrebbe anche avere senso che sia un dolore psicosomatico e va bene ma il serpentese boh ma tanto quello aveva fatto casinare a Rowling anche dopo perché aveva fatto delle affermazioni a cazzo di canne quindi lasciam perdere veramente fa un discorso su Silente e Piton dicendo che i loro nomi non devono essere un peso per lui perché erano sicuramente grandi uomini ma avevano dei difetti i loro difetti li avevano resi grandi no? bello qualcuno di voi ha detto ah mi ha fatto commuovere quel discorso io veramente non credo che ci sarebbe niente che mi potrebbe far commuovere a questo punto probabilmente se mi guardo a Cico dopo aver letto quest'opera non provo niente ormai pura apatia non riesco a provare più niente non riesco più a incazzarmi non riesco più a ridere niente il mondo è diventato grigio e ho perso i colori per strada proprio niente da fare comunque arrivano al cimitero dove c'è Cedric Harry fa un collegamento con Craig dicendo ah mi spiace per Craig anche come anche Cedric era innocente non doveva morire in quel modo io vengo spesso qui a chiedergli scusa boh c'è nel senso va bene nel senso sono morte centinaia di persone per colpa tua e di Voldemort passi le ferie a chiedere scuse a tutti no ma quanto pare Cedric è quello speciale ci sta anche quello su cui ho sofferto un po' di più all'inizio nel quarto libro però boh vabbè e fine coloro che si abbracciano e che vi devo dire ragazzi a fine di queste cose ci sono un paio di scene su qualcosa come quante sono? 80 scene che si trovano all'interno del coso che sono anche leggibili ma l'opera è veramente squallida, è veramente semplicistica ma anche le parti che sono diciamo scritte bene non hanno quell'incisività nei dialoghi che dici, sai, non mi aspetto non vado certo a criticare la descrizione ambientale diciamo, ma c'ha dei bei dialoghi questa sceneggiatura teatrale ma gli ambienti non sono descritti granché non sono stupido, non dico questa cosa qui so come è scritta una sceneggiatura ma i dialoghi sono la cosa più importante in una sceneggiatura teatrale e non riescono mai mai a essere incisivi mai a essere, che dici wow che bella frase, non c'è una singola frase che mi è rimasta imperesta dico, ah però, è scritta bene è proprio bella questa frase qui è un'opera brutta veramente brutta che a tratti è mediocre ma rimane brutta nella sua interezza ed è soprattutto un seguito canonico agghiacciante veramente agghiacciante mi spiace non è che se non fosse canonico sarebbe meglio assolutamente no se fosse forse guarda una fanfiction su Wattpad e la leggissimo per ridere in una live su Twitch allora forse tanto tanto ma, cioè, boh ragazzi io ho letto e onestamente a questo punto posso anche dirlo ho scritto fanfiction fanfiction scritte mille volte meglio di questa roba qui e ci niente da fare ci niente veramente da fare spero che vi sia piaciuta questa questa serie di video nonostante il dolore che ho provato nel farle un po' mi dispiace di essere arrivati alla chiusura di queste quattro settimane perché è stato un bel percorso da fare insieme a voi ma ci aspettano altre opere in seguito quindi stay tuned grazie ancora a tutti quelli che ci sono stati e che abbiamo perso durante il percorso vi visiterò le vostre tombe nei fiesti di mano come fa Henry con Cedric ci vediamo presto con un altro video grazie a tutti quelli che me ne sostengono economicamente sia guardando i video senza di blocco ovviamente sia con abbonamento su YouTube Twitch e Patreon trovate i vostri nomi ora in chiusura buona buona per ultima volta su Mezzo delle Red buona 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 Grazie.